Confartigenato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 28 06 98. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee, telefono 079 27 1280. Infonente operazione dei carabinieri a Castelsardo contro lo spaccio di stupefacenti. L'indagine antidroga, durata circa sei mesi, si è conclusa questa mattina alle prime luci dell'alba, con l'arresto di sei persone, tre dei quali finiti in custodia cautelare in carcere e altri tre agli arresti domiciliari. E di 64 grammi il quantitativo di cocaina sequestrata agli inquisiti, l'operazione diretta dalla procura della Repubblica di Sassari, è partita novembre scorso, quando all'interno di un'abitazione debita a casa vacanza, era stato trovato un trolley pieno di marijuana. I carabinieri della stazione di Castelsardo avevano sin da subito accertato la presenza di una fiorente attività di spaccio, in particolare di cocaina, sia al dettaglio che all'ingrosso. Sei mesi di indagini partite nell'autunno dell'anno scorso, a seguito del rinvenimento di un trolley all'interno di un'abitazione pieno di marijuana. Da lì l'attività tecnica e servizi di osservazione, controllo e pedinamento hanno permesso di arrivare a questo brillante risultato, ossia all'esecuzione di misure cautelari in carcere e gli arresti domiciliari per queste sei persone. Giuseppe Alessu, il candidato alle primarie del centro-sinistra come sindaco di coalizione del Comune di Porto Torres. 44 anni, docente di ruolo di matematica e scienze e presidente dell'associazione Tuteliamo il Golfo dell'Asinara. È da sempre motivato nel voler far crescere la Sardegna ed in particolare la sua città di Porto Torres. Lo si può riscontrare nei dieci punti del suo programma. Sostenuto dal Partito Democratico, Alessu intende riorganizzare la macchina comunale, per avere un rapporto diretto tra il cittadino e l'istituzione. Tra i punti del programma, una migliore gestione dei porti per contrastare l'inquinamento del mare, l'incremento delle attività culturali e degli eventi per i giovani. L'esponente Dem propone anche opere di bonifica per riparare ai danni dei refluitossici e nocivi generati per anni dalle vecchie industrie petrochimiche del territorio. Il turismo rientra tra le altre priorità in particolare con l'isola dell'Asinara, con l'obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, storico e culturale, insieme alla riconversione di grandi aree industriali dismesse, riutilizzabili per progetti di ricerca e di innovazione tecnologica. Porto Torres, secondo il candidato, deve tornare all'attenzione delle politiche governative. La mia candidatura nel centro-sinistra dà una risposta ad una richiesta di rinnovamento della classe dirigente. Ovviamente questo rinnovamento non deve essere solo nelle persone, ma anche nei contenuti. Per esempio, Porto Torres deve diventare un'avvertenza nazionale, come lo è Taranto, cui problemi sono simili ai nostri, ambiente, lavoro e salute. Però lo Stato per Taranto è disposto a mettere 3 miliardi, per Porto Torres ancora zero. Ecco, questo non va bene, questa è una battaglia che intendo combattere con tutte le forze politiche e sociali di questo territorio. Sindaci e parti sociali contro i reparti Covid, oggetto del contendere la delibera d'agosto della Regione che individua la RSA di Ploaghe, Macomera e la Maddalena per la gestione degli asintomatici positivi e dei negativizzati. Una decisione che non va giù ai tre primi cittadini, tra questi Antonio Siccu, sindaco di Macomera. Non si capisce quale sia la logica, dichiara Siccu, che porta a voler istituire un centro simile in un territorio ancora pressoché immune da virus. Perplessità anche da Luca Carlo Montella, a capo della città dell'arcipelago, che vede troppo complessi i viaggi di andata e ritorno dalla Maddalena di pazienti in biocontenimento e punta il dito contro l'assenza in loco di personale adeguato e apparecchiature idonee. Del tutto contrario Carlo Soggiu, sindaco di Ploaghe, che combatte da tempo per la realizzazione dell'hospice per pazienti terminali nel locale Gli Ulivi. E proprio sul San Giovanni Battista, così come sulla struttura che dovrebbe, a breve, accogliere i pazienti psichiatrici del Rizzetto, intervengono CGL e CIS The Will, funzione pubblica. Le parti sociali temono infatti che le scelte sanitarie in regione facciano saltare, sin e die, proprio l'inaugurazione dell'hospice e il trasferimento degli ospiti del Dipartimento di Salute Mentale Sassarese, o Reno Gliastra, e chiedono rassicurazioni all'assessore della sanità Mario Nieddu su gli impegni presi l'11 agosto scorso sull'avvertenza del Rizzetto. Chi ha paura delle drag queen? Le bombastiche creature, super glamour e iper donne, prese di mira dal popolo della famiglia Sardegna. A scatenare l'ira del soggetto politico guidato da Mario Di Nolfi, lo show in programma per Sassare Estate, questo sabato alle 21, nel cortile della Scuola Media numero 2. Più che la locandina, con un silueto alla 007 sotto estrogeni, sono i loghi di comune e regione il carburante della protesta. Vergognoso, a parere del PDF, il patrocinio dei due enti, diseducativo e ideologico il progetto stesso, che Roberto Manca, direttore artistico di Music & Movie, associazione organizzatrice dell'evento, sostiene di consistere in realtà, in uno spettacolo sfida contro l'ignoranza e la discriminazione tra due team agli antipodi, uno con profilo ordinario di pensionati e maestre, l'altro le drag, appunto, glitterato ed extra-anomalo, dove queste le intenzioni si vorrebbero colmare le distanze e puntare all'inclusività sociale. Ma alle finalità dello show, Barbara Figus, referente regionale del Popolo della Famiglia, non crede. Denuncia il fatto che questi spettacoli siano imposti anche ai bambini. Si vuol far passare, continua la Figus, l'omosessualità e la transessualità come normali e chiede a Nanni Campus, sindaco di Sassari, e a Cristian Solinas, governatore sardo, di schierarsi contro omissione drag e pro-valori cattolici. Intanto informa che lei e gli altri esponenti del partito presenzieranno la serata. Si annuncia quindi un doppio confronto sul palco e in platea per la gioia degli spettatori e sicuramente di Roberto Manca. L'invito, dichiara i promoter, così potranno giudicare qualcosa che non conoscono. Novità nel campo dei cocktail sardi. Si chiama Dottor Coron, quattro aperitivi sardi miscelati e ideati durante il lockdown. L'idea è nata nella distilleria di Berchidda, Lucrezio R., grazie al maestro distillatore Sebastiano Rau e al barman Emilio Rucchino. Il nome dei cocktail, Dottor Coron, è un richiamo al coronavirus. Usato quasi sfrontatamente dalla nostra azienda, spiega Rau, anche amministratore dell'azienda, per provare a dire basta a un periodo che tutti vorremmo dimenticare in fretta. Gli aperitivi sono tutti rigorosamente made in Sardinia, con soli prodotti locali, realizzati con erbe, frutti, radici e spezie che crescono nell'isola. A presentarli in anteprima, l'Aperijetz note sarde, durante alcune tappe di Time Jets, una rassegna musicale internazionale diretta dal celebre trombettista Paolo Fresu. Aperijetz è un confanetto contenente alcuni prodotti sardi, tra cui un panettone salato in versione terra e mare, le nuove bottiglie dei cocktail miscelati pronti all'uso ed altri prodotti indispensabili per un buon aperitivo da poter gustare dovunque e in qualsiasi momento. Inoltre, ogni confezione è munita di un cartoncino su cui è presente un QR code dove poter scaricare una playlist esclusiva creata proprio dal jazzista sardo di fama mondiale Paolo Fresu. Il Rally Italia Sardegna 2020 si svolgerà dall'8 all'11 ottobre prossimi, col quartier generale ad Alghero, anticipando la data inizialmente prevista dall'ACI, la FIA e la World Rally Championship, per i giorni dal 29 ottobre al 1 novembre. La data è stata ufficializzata ieri a Villa Devoto, sede della Presidenza regionale, durante una riunione tra il Presidente del Consiglio regionale Paes, l'assessore al turismo Chessa, il Presidente nazionale ACI Angelo Sticchi Damiani, il Presidente dell'ACI Sasseri Giulio Pes, il Sindaco di Alghero Mario Conucci. Alghero è pronta per accogliere il Rally, dichiara il primo cittadino. Un grande appuntamento di sport che ci consente di legare gli eventi di fine stagione a questo momento clou, sul quale la Regione investe confermando il finanziamento, dimostrando impegno e attenzione verso Alghero. Questo ci permette di dare la possibilità al comparto turistico di restare aperto in un periodo di bassa stagione, caratterizzato da una serie di appuntamenti che si legano con le festività di San Miguel. L'obiettivo è recuperare il più possibile i mesi persi durante l'emergenza sanitaria. Per l'assessore al turismo Gianni Chessa, non solo mare, ma un'isola che punta molto anche all'interno, a valorizzare l'interno, a valorizzare i prodotti, quindi questa iniziativa, questo evento, ci dà l'opportunità di essere conosciuti ancora di più nel mondo e a promuovere quello che sono i nostri prodotti agroalimentari, il territorio e l'ambiente e la qualità della vita, cercando di far venire il turista in altri mesi che non sia solo l'estate. Gli eventi mondiali, internazionali e anche quelli nazionali ci portano in questi grandi campionati, ci portano veramente una vetrina e un salto di qualità di visibilità enorme. Non ci portano in questi paesi che vi esten. Non ciò che vi